Hanno giurato in 200 gli allievi carabinieri del 134esimo corso della caserma Frate di Campobasso, facendo dell'onore e della fedeltà alla patria i valori fondanti della loro vita e della loro carriera. Cerimonia solenne questa mattina alla Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, dove i militari hanno ricevuto gli alamari, simbolo dell'entrata a far parte della benemerita. In un tripudio di commozione, tanti familiari e le persone che hanno preso e parte alla cerimonia. Ospiti dell'evento, oltre alle autorità civili e militari della regione, il generale di brigata Antonio Paparella, comandante legioni allievi carabinieri, il comandante delle scuole dell'arma, il generale di corpo d'armata Riccardo Amato e il comandante generale dell'arma dei carabinieri Tullio del Sette. Oggi a Campobasso non è la prima volta che vengo, stavolta per una cerimonia solenne che è molto importante. Ha segnato la conclusione di un corso di 200 ragazzi. Sono venuto a dire loro, che siamo soddisfatti di come hanno affrontato questo periodo, a dire loro che dovranno impegnarsi molto per fare bene ai reparti. Ai reparti a cui li mandiamo immediatamente perché ce n'è bisogno e per dire anche che questa scuola verrà ulteriormente valorizzata. Oggi 200 nuovi carabinieri, chi augurio fa ai suoi uomini? Beh, che possano impegnarsi con lo stesso entusiasmo ogni giorno della loro carriera, con lo stesso entusiasmo con il quale oggi hanno giurato, con quegli stessi sentimenti, con quella stessa voglia di fare, con quella stessa freschezza giovanile, con quella stessa correttezza assoluta di comportamenti che ha contraddistinto questo loro periodo e sicuramente anche i periodi precedenti della loro vita. L'arma dei carabinieri custode e fautrice dei valori di legalità e onestà ha voluto omaggiare alla vigilia del giuramento i nuovi militari e le loro famiglie con un concerto della fanfara Legioni A allievi carabinieri che si è tenuto nella palestra della scuola. Questo è un evento sicuramente storico per ogni corso, anche perché da diversi anni viene abbinato il concerto per gli allievi e soprattutto per i familiari degli allievi e il giuramento. Gli auguri ai nuovi carabinieri sono arrivati anche dal comandante della scuola allievi carabinieri di Campobasso, il tenente colonnello Antonio Renzetti. Il mio augurio è sempre quello di essere bravi carabinieri, di essere soprattutto responsabili, di essere disponibili e di non tradire mai la fiducia che da domani tutti quanti noi affidiamo loro.